salve ragazzi per la realizzazione di questo video dobbiamo ringraziare nicola che mi ha suggerito l'acquisto di una crimpatrice decente visto che aveva visto questa qua del lidl e la considerava poca cosa beh alla fine ho comprato questa qui e devo dire che ci sta tutta insomma è una bella crimpatrice ora approfittiamo proprio dell'avere tanti oggetti per la manipolazione di fili e cavi per fare un poco di paragoni ora io vi rubo qualche istante per tagliare gli estremi dei dei cavi elettrici che ho qui sul tavolo e preparo tutto quanto alle prove che adesso faremo bene io normalmente la pinza che amo maggiormente per pelare cavi vi dico in tutta sincerità e questa qui è la più semplice la la più pratica la più rapida perché gestisco il diametro del del filo da pelare con questa vitina qua e in un secondo l'adeguo al al filo come faccio semplicemente qua ci sono due taglienti contrapposti che lasciano aperto un piccolo spiraglio lo inserisco visibilmente riesco a gestire la misura la quantità di pelatura che mi occorre vado chiudendo ora devo chiedere un pochino di più probabilmente e tiro voilà vedete qua ho il pezzettino che mi è rimasto e qua ho la pelatura fatta in maniera buona io la definisco buona dopo di che mi faccio una traccina qua ok questa è quella che in assoluto preferisco perché la posso maneggiare senza problemi la prendo e anche se mi cade non si danneggia un corpo semplice metallico probabilmente anche quella che tra tutte queste vale meno ma vi ripeto per me è quella in assoluto più pratica nei lavori che faccio io certo è che per pelare fili con questa qui bisogna poter prendere il filo in questo modo afferrarlo o comunque avere la la possibilità che il filo sia abbastanza lungo per tirarlo perché se no è un problema andremo a tirare un filo che magari collegato da un'altra parte ci tireremo una cassettina elettrica facendo chissà che danno e quindi per pelare fili che sono sciolti va bene in altri casi un po meno e quindi è ovvio che comunque questa pinza deve essere implementata da altri strumenti andiamo a vedere questo pelacavi del lidl costo mi pare che l'ho recensito la se giusta la settimana scorsa qua c'è lo sblocco dove qua e dalla possibilità di pelare cavi di diversi diametri vedete qua c'è una forbicina tagliente e qua ci sono i fori per pelare a diversi diametri mettiamo di nuovo a fuoco qua sotto allora la forbicina tagliente vi dico subito non è un gran che cioè io vado a chiudere blocco e faccio così insomma alla fine taglia è però non è uno strumento comodissimo per tagliare per pelare come va beh seleziono decido qual è il diametro opportuno e vado a imprigionare il filo nel cerchietto mi fate passare il termine senza pinzarmi questo qua lo chiudo lo blocco e tiro afferro così e tiro perfetto qua è caduto il tubicino vuoto e qua c'è la pelatura del filo pelatura che devo dire è eccellente buona controindicazioni stesso discorso di questa pinza per utilizzare questo e tirare devo avere la possibilità sempre di afferrare il filo il cavo in maniera ferma forte dall'altra parte perché se no sempre mi vado a tirare chissà che cosa ok quindi 7 euro è uno strumentino comodo non pesa niente fa il suo lavoro non non aspettate una grande praticità per uso professionale però per piccole cose è ottimo è ottimo c'è niente che dire ai suoi limiti ovviamente ma va bene la pinza crempatrice della power fix anche quello di prima la power fix e pinza della crempatrice della power fix fa tante cose questa qua per la cavi l'italia di crimpa e allora innanzitutto andiamo a tagliare qua sotto il fulcro della pinza sotto il punto c'è una piccola tenaglia per una piccola forbice per per tagliare i fili elettrici un colpo va tagliato più che bene ok buttiamo il risultato il risultante e andiamo a vedere un attimo quanto dobbiamo pelare quanto dobbiamo pelare lo decidiamo con questo sistemino qui qua c'è un limitatore o un sistema per gestire la lunghezza della pelatura la pelatura andrà da qui dove vedete questi due denti vedete che uno si chiude a al limite di questo pezzettino di questo limitatore rosso questo coso rosso semplicemente serve a darci un'idea della lunghezza che si va a pelare non ha altra funzione volendolo potremmo anche escludere e andare così alla più o meno cieca ok allora io inserisco il filo qua dentro vado a serrare vedete qui ci sono dei denti che me lo vanno a bloccare praticamente questo rappresenta la mia mano che prende il filo e qui questi due dentini contrapposti lo vanno a incidere mentre questi continuano il loro atto di serraggio voilà lo ha pelato lo ha staccato e io qui con la mano semplicemente posso sfilare il tubicino di risulta ok e poi mi faccio la mia solita treccina ok ora questa pinza per pelare a me va molto bene che che se ne dica a me va bene vantaggio rispetto alle prime due cioè rispetto a questa e all'altra piccolina della power fix che questa qui se state lavorando in uno spazio piccolino insomma dove non potete dove non avete la possibilità di afferrare il filo per tirare fisicamente qui avete molta molte meno esigenze di lunghezza di filo e con diciamo 6 7 centimetri a disposizione potete andare tranquillamente a pelare un filo con la pinza con lo spazio che fisicamente vi occupa la pinza questi saranno circa 6 7 centimetri diciamo che si può pelare un filo così ok questi sono 6 7 centimetri e abbiamo la possibilità di senza stare a tirare perché praticamente la mia mano è rappresentata da questi sei denti tre tre sei dentini contrapposti ok sono questi che afferrano il filo e fanno il lavoro che negli altri due casi faceva la mia mano trattenendo e questi due dentini contrapposti invece qui a destra lo vanno a pelare ok il sistema è molto molto pratico poi c'è la sua piccola cesoia che non è nulla di eccezionale però taglia e poi qua sotto ci sono le forme per la crimpatura sono uno due tre forme ok tre diametri per la crimpatura perché nicola mi ha commentato che questa pinza era infelice per la crimpatura diciamo così perché allora quando si va a crimpare con questa il punto di crimpatura sta prima del di questo fulcro di questo snodo ok quindi la forza che io riesco a imprimere a agli elementi che vado a crimpare di quei elementi perché non so come si chiamano sono proprio tragico agli elementi che si vanno a crimpare è determinato unicamente dalla forza che io riesco a effettuare con con la mia mano con il serraggio ed è una forza limitata a questo spazio vi faccio vedere la bellezza di quest'altra pinza qui la forza di crimpatura aspettate che ho troppe cose tra le mani vedete questa è la la sono i mordenti di questa crimpatura e questi sono quelli della pinza che ho comprato adesso sul suggerimento di nicola vedete che qualcosa di molto molto più massiccio questo è un filo di metallo questa è una bocca di di coccodrillo allora la forza in questa pinza gialla per capirci è sviluppata da un sistema di leve sono uno due tre quattro fulcri quando vado a chiudere per provare di certo non ci vado a mettere il dito in mezzo ora prendo uno spezzone di filo e immagino che lo schiaccia senza problemi infatti non è per fare questo lavoro però guardate addirittura lo ha lo ha mozzato gli ha dato la forma della sua dentatura lo ha schiacciato senza senza nessun problema vedete come come lo modella praticamente e non è per fare questo lavoro ovviamente ci ho voluto mettere questo questo spezzone per darvi un'idea di quanto alla fine io ho premuto tramite con due tre dita della forza che sviluppa ora andiamo a fare realmente una crimpatura mettiamo nuovamente a fuoco mi siedo perché sono vecchio e inserisco il il babbalacchiotto qua come si chiama inserisco dentro così speriamo di fare bene entra ed entra dovrebbe entrare fino alla plastica perlomeno e che qui sicuramente chi lo fa in maniera professionale sa perfettamente che forse ho pelato anche troppo e infatti mi esce dall'altra parte però allora che accade facciamo prima la power fix la power fix andiamo a vedere un pochino il diametro dovrebbe essere questo quello più più grande se non erro provando da crimpare ok schiaccio e succede una cosa tragica cioè lo vedete ora non sto lasciando ve lo faccio percepire così vedete che è andata le due le due parti di metallo che vanno a crimpare si sono messe ok così 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 non devo lasciare perché sennò perdono effetto realtà faccio un ingrandimento vedete che questa di destra si è sollevata rispetto a quella di sinistra è un poco l'ho lasciato ritorniamo alla dimensione corretta sto dicendo purtroppo quella di destra si è sollevata rispetto a quella di sinistra è quindi a chiudersi male non schiacciano bene fa questo lavoro e la crimpatura non va a essere una crimpatura fatta bene ok probabilmente ho sbagliato pure nel il punto di crimpatura e comunque proprio per questo andarsi a sovrapporre le parti che vanno a crimpare la crimpatura non potrà mai venire bene perché la debolezza della pinza fa sì che il risultato comunque sia triste ora facciamo una prova con l'altra pinza la pinza gialla e vediamo che salta fuori io ne approfitto tra tempo per tagliare ho l'accesoia la forbice della power fix questo non ci serve più e devo prendere un altro pezzettino di coso ok prendo questo qua prendo questo qua sempre per pelare il filo utilizzo power fix perché va bene per pelare per pelare per pelare per pelare però questo saranno ok vedete perfetto per pelare faccio un pochino di trecce trecce spirale chiamatelo come volete e ci vado a mettere faccio un pochino di trecce spirale chiamatelo come volete e ci vado a mettere questo qua magari così così grande dovrebbe se c'è uno più grande vabbè andiamo con questo dai la prova comunque verrà non troppo disgraziata allora cosa faccio in questo caso lo vado ad alloggiare per intero qua schiaccio schiaccio con due dita no in realtà dita me ne servono un po' un po' di più con tutta la mano schiaccio bene rilascio estraggo ed è bello che è intrappolato guardate aspettate mettiamo meglio a fuoco vedete è schiacciato sì vabbè avevo preso la plastica ora però 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 po 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 figura di merda è inutile stare a prendersi in giro ho fatto una una cazzata che è successo qual è il punto ora ve lo faccio vedere subito ve lo spiego chiaramente mettiamo fuoco allora il diametro del del cavo è troppo grande e non entra nella eh circonferenza di metallo praticamente mi è rimasto nella parte di plastica nella parte di plastica non ha forza di crimpatura non ha forza di afferraggio e a non entrare nella parte metallica che si va a schiacciare praticamente alla 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 minima tirata eh è venuto via quindi ehm la la prova è stata inficiata non per l'inefficienza della pinza ma per l'incapacità dell'esecutore ora mi auguro che crimpando crimpando io acquisisca le capacità necessarie questo senz'altro accadrà questo per le male lingue e niente ora andiamo a ripetere nuovamente la pelatura del filo e andiamo a cercare di fare il lavoro così come deve essere eseguito o più o meno o meno peggio ora che cosa penso di fare semplicemente vado a piegare la parte di rame la vado a piegare in due e la vado a inserire all'interno della circonferenza di metallo la piego in due così mettiamo a fuoco mettiamo più a fuoco mettiamo meglio a fuoco ok vedete sono piegata in due e ora me la vado a reinserire dentro la parte metallica che non è lungo tutta la superficie ma probabilmente solo metà cerchiamo di farla anche uscire dall'altra parte devo schiacciare un pochino di più se no non passa avrei potuto rifare il video tagliare montarci qualcosa di sopra fare tipo colpo grosso usciva la signorina che mostrava le tette beh questo non è il mio la mia mano la mia maniera di attuare ecco vedete l'ho fatto un poco passare di fuori la parte di rame è entrata tutta dentro la parte il tubicino metallico che ora andrò a schiacciare ora vado a prendere nuovamente la la pinza crimpatrice alloggio il connettore per intero nella sede della di crimpaggio e schiaccio 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 vedete è imprigionato e lo schiacciamento è avvenuto correttamente andiamo a vedere un attimo come si è schiacciato non mi è venuto perfetto però tiene questo tiene ora ovviamente bisogna bisogna adeguare i connettori bisogna utilizzare il corretto diametro del filo rispetto al connettore e ovviamente scegliere il lo spazio corretto di crimpatura io purtroppo tutte queste cose non le conosco le imparerò con l'esperienza ora dovrò imparare ad utilizzare questa pinza e a regolarmi anche con diametri di fili e connettori e di insomma mi auguro che i miei futuri lavori con la pratica l'esperienza e gli errori insomma miglioreranno ok in ogni caso abbiamo visto che la differenza c'è tra questo e questo già solo perché a parte l'esecutore disgraziato torno a dire non mi fate umiliare troppo vi prego già solo perché questa pinza crimpa schiaccia a dovere e questa invece si si torce si si flette totalmente danno risultati discutibili ok ragazzi nuovamente vi chiedo scusa per la la magagna che è occorsa ma l'esperienza questa è la prova che l'esperienza ci vuole anche in quelli che sembrano lavoretti semplici e iscrivetevi al canale attivate la campanella non pretendo il mi piace perché probabilmente non me lo merito e niente ci becchiamo sui prossimi video ok con questo è tutto ciao e alla prossima ciao ciao grazie a tutti